... Coach Schiavo, dalla sala stampa qui di Cuneo al termine della decima giornata di andata che ha visto la Bosca San Bernardo Cuneo prevalere su Filottrano 3-1 una partita molto combattuta, c'è da dire ogni set giocato davvero su un fazzoletto e su piccoli dettagli cosa è mancato alla Lardini questa sera per riuscire a portare a casa dei punti? Beh, credo che a una prima analisi così da campo, suffragata anche dalla statistica, sia mancato un po' di attacco nel senso che rispetto alle ultime prestazioni abbiamo abbassato notevolmente la percentuale d'attacco soprattutto sui laterali, sapevamo che Cuneo comunque è una squadra che batte a un buon livello di conseguenza la ricezione doveva lavorare molto e probabilmente i centrali sarebbero stati utilizzati un po' meno sui laterali abbiamo fatto abbastanza fatica stasera Abbiamo fatto fatica in attacco, visto che hai provato anche diverse soluzioni è entrata poi Bianchini e ci abbiamo cercato un pochino anche di mordere in battuta però non è bastato contro una Vanek e Soce davvero in grande spolvero oggi Sì, abbiamo usato le nostre armi, non trovavamo grosse soluzioni in attacco adesso andremo a rivedere il perché e il percome di questa situazione abbiamo provato, Maric ha dato stabilità in seconda linea, ha fatto bene in battuta nei set in cui è stata impiegata abbiamo provato le nostre armi migliori, purtroppo è andata male però nei processi di crescita una qualche battuta dal resto ci sta quindi non ci preoccupiamo, sappiamo che dovremo riguardare qualcosina perché sicuramente qualcosina non è andato come doveva al di là della buona prestazione che ha messo in campo Cuneo che comunque, come avevamo detto, probabilmente la classifica che ha è frutto di un periodo negativo ma sicuramente giocatore di livello, stasera Vanek l'ha dimostrato quindi bravi loro, noi torneremo in palestra tranquillamente per riguardare un attimino e lavorare su quello che non è andato Anche perché poi adesso arriva l'impegno Casaligo contro Firenze dove si può provare a far bene davanti al proprio pubblico sappiamo che è un campionato complicato perché sono davvero tante squadre che sono sugli stessi livelli, l'abbiamo visto Cuneo stasera e poi ci sono queste di fascia un po' più alta dove bisogna provare col coltello tra i denti a strappare tutto quello che si può Sì, beh, sicuramente, loro sono una buona squadra quindi sicuramente arriveranno da una settimana di riposo perché oggi avevano anticipato per via del mondiale per il club di Novara di conseguenza andremo per giocarci, andremo, verranno loro noi andremo giù a Iesi per giocarci le nostre carte cercando di mettere in campo quello che magari stasera ha funzionato un po' meno quindi guardiamo avanti Perfetto, buon lavoro coach Grazie Grazie